Di difesa, Osei con Dalena e Okada, con Aramu, De Luca e Berardi. Il derby della Mole, versione primavera, subito con il Toro in possesso del pallone. L'apertura sulla destra per il suggerimento, subito in profondità, in quella zona dove comunque c'è il presidio da parte della Juventus che riparte centralmente. L'apertura di Mosti per l'Iris che va al cross, poi al limite dell'area per il 19. Bella palla, grande mezzo, il gol del Torino, grandissima palla in profondità e la rete del Toro che pareggia i conti e qui la disattenzione è stata dalla difesa bianconera, sono il pallone che è stato infilato praticamente all'angolino per il gol del Toro per l'1-1, gran palla in profondità, è stato un gioco da ragazzi per Berardi mettere in rete, grande azione, tutta in profondità, vediamo con Osei che lancia dentro per Berardi che controlla con il sinistro e poi fulmina il portiere del Favero per l'1-1, grandissima palla di Osei. In questo caso la fotocopia dell'azione di prima. Berardi che sta facendo il rischio. E' un'occhio. Berardi che si v'eva un problema. Chi va. Chi va. Chi va. Chi va. Adesso Ottobale Sangaré a colloquio con il direttore di gara mentre si gioca. Colone verso numero due Fagliello, uno contro uno con Barbera, le finte poi indietreggia, frena ancora.